La mostra sul calcio Napoli, Napoli nel mito, si chiude con una bellissima mattionata di approfondimento e di collegamento con le scuole. Si proietta infatti un film dedicato a Maradona, tutto quello che lui ha lasciato a distanza di anni nel ricordo, nella liturgia oserei dire del popolo napoletano e seguirà dopo la visione del film la visita da parte delle scolaresche all'ultimo giorno della mostra. Noi vogliamo con questa esperienza far capire che il museo è un luogo dove si studiano le identità, non necessariamente quelle antiche ma anche quelle attuali perché poi alla fine la maniera di rispondere dell'uomo ai grandi bisogni legati al successo, all'esaltazione dei valori agonistici e di quelli sportivi tutto sommato non muta a distanza di migliaia di anni. Capendo il presente si può capire meglio l'antico, capendo l'antico si può meglio capire il mondo attuale.